Bella ragazzi, qui è Ron e bentornati Wow 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 wow, fermo, fermo Ron, cioè La faccio io la intro, tranquillo Mi avete scritto delle cagate talmente assurde Che quando ero in bagno ho fatto la terza guerra mondiale con il cesso Abbiamo avuto gente che mi diceva Intervista a Riccardo il Grande No Intervista, no Intervista a Rosario, no Ebbene sì, sono qui per presentarvi l'apoteosi Cazzo Ebbene sì, sono qui per presentarvi l'apoteo È un onore portarlo qui, ovvero Josh Ron, bella Ron Bella ragazzi, qui è Ron e bentornati Ok quindi abbiamo Ron appunto, grazie per essere venuto in questo piccolo, diciamo così, momento di registrazione con me Comunque, allora, parleremo delle cose un pochino più sensoriali Allora, dunque come ti chiami? Ok perfetto dunque Ron, hai qualche rapporto magari che non so con altri youtuber nell'ambito di video? Ho un rapporto sensuale con Gaghero, Hazard, Taric, Nani, Check, Suarez! Ah, ok Regia Ron si è drogato? Ma non doveva drogarsi? Cioè Che cazzo faccio ora? Cioè C'è una persona Che mi sta guardando ora Non so che far, giuro No E che cazzo faccio? Va bene, tranquillo, tranquillo Eeeh, Ron Eeeh Sì, Hazard! Ooooooh Mamma mia! Oh, Check! Gesù Cristo sia santo, Check! No! No, 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 no! Starridge, non l'ho mai visto fare una roba del genere Starridge! Attenzione, signori! Starridge! Tutta la sua potenza! Incredibile, signori! Suarez fa tutto lui! Trova il buco! Ripartiamo Nooo! Codo! Sì, Samu! Sì, Eden! E sta entrando! Ciao, bello! Ah! Sì, Nani, che bravo che sei, Nani! Dentro, Nani, dentro! Non entro, regà! Non entra, porco Giuda! Sì, Aghero! Sì, Aghero! Attenzione, regà! Sì, Aghero! Vai, Aghero! Oh! 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 Non entro, regà! Non entra, porco Giuda! Oddio! Sì, Hazard! Sì, Hazard! Vai, Aghe... Eh, Arbitro! Oh! Ah! Ok! Regia, quanti spinelli si è fatto? No, perché io chiamo la polizia, sono preoccupatissimo, cazzo! Ok, gli faccio l'ultima domanda, se mi fa una cagata, giuro quitto! Ok? Ok? Ok, dunque, Ron! Dubito della tua sanità mentale, comunque, parlando di un argomento un pochino più tecnico, ecco, cos'è che tratti principalmente nel tuo canale? Oh! 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 Gesù Cristo sia santo! Check! No, vabbè, eh... Regia... Fanculo, me ne sto andando! Ciao, arrivederci! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao!